L'ex ufficio turistico di Pallanza ritorni alla sua destinazione originaria. Lo chiedono i consiglieri del gruppo Insieme per Verbagna, Gian Domenico Albertella, Sara Bignardi e Silvano Boroli, in un comunicato indirizzato al sindaco Silvia Marchionini. Lo stabile che si trova vicino a Villa Giulia era infatti stato inserito nell'elenco dei beni da alienare perché diventasse un ristorante, ma ben due bandi erano andati deserti, nonostante alcuni privati avevano detto di essere interessati all'acquisto. Per questo Albertella e il suo gruppo chiedono di abbandonare la proposta bocciata dal mercato. Spiegano i consiglieri, il nostro gruppo ha proposto e ora lo rivadisce con ancora maggiore convinzione di recuperare il patiscente edificio alla sua destinazione originaria affinché diventi un punto di riferimento per le attività ricettive e commerciali, luogo di prima accoglienza e di informazione per il turista, di promozione e di incontro anche per tutte le associazioni del territorio. Uno smart center della città dotato di grande visibilità, facilmente raggiungibile e sempre aperto a tutti per informare cittadini e turisti su ogni tipo di iniziativa. Un centro dove collocare anche gli uffici del distretto turistico dei laghi e delle valli dell'Ossola. Replica Marchionini. Stiamo affidando l'incarico per l'efficientamento energetico e studiando un'ipotesi pubblico-privata per realizzare un'attività commerciale sul lago. Può essere che gli investitori si siano scoraggiati per l'ingente sforzo che sarebbe necessario ora per ristrutturare l'immobile. Il Comune sta valutando quindi di migliorarne l'attrattiva. Strano che le soluzioni di investimento privato non trovino condivisioni, prosegue il sindaco rivolgendosi al gruppo insieme per Verbagna. E in epoca di promozione turistica, ormai via app, si pensi ancora e solo ad un ufficio con fondi pubblici, personale per altro a 300 metri da quello vicino alla navigazione Lago Maggiore. E sull'ipotesi di trasferirvi la sede del distretto ribatte, l'amministrazione ha scritto al distretto turistico già nel 2018 proponendo Palazzo Pretorio a Intra.